Musica Serata Protetto, sempre qua a Milano Sono con due ospiti, due cabarettisti Posso dire cabarettisti? Assolutamente no Assolutamente no, i virus Sì, ciao, io sono Arminia Cobau Lui è Angelo Cogliatti, mio compagno È un idiota per cui non seguitelo Quindi tu sei il suo avvocato praticamente Ti sei portato l'avvocato È una spaccapalle, pazzesca No, si può dire spaccapalle Sì, lo dico perché sei Però sei fantastica, amore ti stimo Sei una donna di spessore Quindi vuol dire che sono grassa? No, ma faccio Vecchia, sei grassa e vecchia Ho 65 anni Bene però, eh Insomma sono nel mezzo di una vita familiare qua Mi devi dare gli alimenti, eh Allora io prima avevo un fidanzato che aveva 17 anni meno di me Oltre che era molto più bello di te Mi dava meno da fare da questo che è un provolone Non seguitelo Tanto è fidanzato con me, non se ne va Lo pago tutti i mesi Ragazzi io vi voglio invitare la nostra trasmissione fantasticando Volentieri Sarà un onore essere vostri ospiti Però poi vieni solo tu e lei la lasciamo a casa A me, no lui dove vai da solo Ricordo che la macchina è mia E lei la macchina è mia E lei la macchina è mia Non Dì Non Ciao